Sei in Piemonte a Novara per la prima volta e in realtà hai già fatto tanto, sei andata all'estero, hai già anche posato per il calendario di Bob Krieger, insomma come sta andando? Ma direi benissimo, anche perché, ripeto, me la sto prendendo proprio in maniera tranquilla, la sto vivendo in maniera serena e sono contenta di tutto. Speriamo che vada sempre meglio. Io non pensavo di avere questa accoglienza ovunque perché comunque non pensavo che il concorso fosse seguito fino a questo punto, invece mi devo ricredere. Forza del territorio, anche Viola, quest'anno hai conquistato la fascia di Miss Deborah. Il concorso è andato benissimo, ho vinto questa fascia che è una delle più ambite, mi sto dando l'opportunità di girare tutta Italia. Oggi è il mio primo giorno, seguirei i consigli di Mirella e niente, vedo tanta gente calorosissima e sono contenta. Questo è un mestiere in cui non si finisce mai di imparare, quindi sto continuando e mi sono presa la mia soddisfazione, quindi adesso voglio studiare e voglio migliorarmi ancora di più.